amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno ragazzi buongiorno maledetta influenza 34 minuti in 14 giornate ma io lo adoro io stravedo questo giocatore io stravedo 34 minuti ma se mi sembra normale ma mi sembra un comportamento normale questo è un talento ma dico questo è un talento ma cosa bisogna fare allo che non si per vedere sbocciare queste 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 persone ci il ring lo stanno dando via come se fosse mercedo come se fosse mercedes cambio sole esploso naturalmente lontano da allegri anche lui da quello che si vince sarà mercedes cambio c'è sto ragazzino vintane 19 anni abbiamo la fortuna che il bayern mono ha fatto diciamo una cappellata non credendo in lui e dandolo stile bocba come manchester vi ricordate niente non è possibile ma fallo giocare questo di questo di dio fallo giocare facci capire se veramente questo è un è un giocatore ma dagli qualche minutaggio in più ma com'è possibile che in questa società si ragioni ma io veramente ragazzi non è perché voglio sempre attaccare ma se questo è un talento se questo è un talento ma facciolo vedere non è lo mandano sempre ora alla next gem lo ma lo hanno mandato nell'infrasette manale ma fammi capire se questo giocatore veramente delizia di lì se ci gli occhi facci contento buttiamo finalmente le mani sul sul futuro mettono in campo mettono e fa niente se magari non fa una buona partita ma mette mettiamo abbiamo il coraggio perché tutte le altre società queste di qua giocherebbero anche a titolare ma veramente ragazzi io non lo so 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 io sento addirittura nomi di mercato a lui proprio a lui a lui a lui non gli compri neanche un pacco di sigarette neanche un pacco di sigarette ma sento nomi allucinanti allucinanti matusa matusa che più matusa non si può io ripetisco il concetto largo ai giovani ai giovani promettenti come sulle ragazzi ma ditemi se non vuoi se noi avevamo bisogno ancora ma cosa dell'altro mondo un allenatore e mi parlate e mi parlate e mi parlate di allegri e mi parlate di allegri mister mister del mese ma mi parlate di non mi fate non mi fate bestemmiare ancora alle sette non mi fate bestemmiare il talento il talento viene proprio completamente bannato da questo da questo schifoso merdoso stracolo dita di allenatore viene completamente bannato viene completamente bannato viene completamente bannato il saltare l'uomo e creare superato numerica l'andare tu per tu uno contro uno è un qualcosa che veramente non riesco più a vedere che schifo ormai veramente vedere una partita dell'allenatore è uno schifo e uno squallore più squallore veramente della cosa più insignificante che c'è in questo mondo vi parlate di allenatore ma voi siete una ma queste sono delle bestemme come quell'altro sabatino che parla di rose valutate l'internet vale adesso quasi così è normale che l'internet vale adesso più di tutte perché la valuta l'ha rivalutata gli insacchi ma poi queste queste questo è un altro cretino ma tutti i cretini sono veramente ma tutto sono tutti ringoglioniti ma cos'è il papa cos'è questo il papa neanche il papa gode di tutta questa glorificazione è normale che l'avano se adesso vale di meno perché è normale la distrutta è normale in due anni la sera è mangiata è normale è normale adesso siamo secondi giocando alla cazzo di cane giocandolo di provinciale da carcerati da carcerati perché siamo da carcerati giocare giocare come giocallete il talento il talento e io lo stravedo per questo gioco minchia 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 come stravede non c'era posto io non ce la faccio io solo resto con voi ragazzi io sono veramente però di con il cuore ma io ormai con questo allenatore ho perso ogni tipo di passione per questa società per questa per questa squadra per questo rispetto i colori il rispetto perché sono diciamo particelle che ormai fanno parte del mio corpo ma non ho più nessun tipo di passione non c'è più di nessun tipo di adrenalina nel pre e nel post partita o che si venga che si perda per me ormai è indifferente non ha nessun effetto c'è tutto quello che c'era prima tutto quello che c'era tutto quello che c'era prima tutto quello che c'era prima veramente l'adrenalina quando si andava affrontare napoli inter milan io io avevo veramente si sentivo il mio corpo come se parlasse ma adesso anzi anzi quando viene davvero sei uno strazio uno strazio e uno strazio uno strazio e siamo direte e poi mi dite ma siamo solo ma non era questo perché siamo secondi è una questione perché quando dovete giocare una squadra del genere che non supera neanche la metà campo fa un tiro in porta e poi si arrocca tutta dietro non è questo io non siamo cresciuti così con questa io vendo su io quando avete ancora le interviste di zidane le interviste di lippio lo stesso del piero ma non si può non si può e ripetisco c'è questo ragazzo 19 anni che potrebbe essere un nuovo del piero potrebbe dico potrebbe con tutto il rispetto ma come si fa a capirlo se non lo si mette in campo ma del piero avrebbe a non avrebbe fatto nessun tipo di carriere con questo animale con questo animale in panchia ma io non lo so veramente non lo so sul è un talentino un talentino ti prende la palla e anche anche fisicamente riesce adattrà a reggere i contrasti non è preso neanche minimamente in considerazione che loro parlano questo loro vogliono fare semplicemente cassa 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 ma ormai che cosa siamo diventati ma cosa siamo diventati ma cosa siamo diventati e per questo che si tengono questo animale bassa bocca mia daici perché sono perché questo di qua non ce ne fotte una minchia se arriva arrivare terzo arrivare quarti arrivare secondi perché non ce ne fotte niente questo questo è semplicemente calato nella parte nella parte della 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 società che gli dice devono arrivare nei primi quattro punto non ci interessa tanto l'entrata l'ingresso in gemme per i voleri basta non ce ne fredda niente perché se ci fosse uno come conti o chi per lui hai mai mai con la voglia di vincere ma non che sono dato da voi siete pazzi io voglio vincere ci sarebbero incongruenze di pensiero invece non ce ne sono incongruenze di pensiero con lui lui è un mediocre in che mi avete fatto sbarallare già alle sette ma mandato ma 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 porca puttana ma comunque sole il link e poi c'era un altro centrocampista non mi ricordo come cazzo si chiama che è bravo anche insonci insonci insurgi che si chiamano anche dicono che questo è bravo andate per scappate ripeto ve lo dico da padre via e anche a te vlavici via chiesa via una buona giornata ma sticci incazzati fino alla fine allegri out grazie a tutti Grazie a tutti.